qual è il percorso che avevo immaginato per questa chiacchierata vogliamo arrivare a interpretare nel modo più corretto possibile critico anche quello che sta avvenendo in termini politiche monetarie e fiscali in in epoca di coronavirus cioè tutto quello che sta avvenendo cerchiamo di di interpretarlo però per essere come come ovvio per essere critici in termini corretti di quello che sta accadendo bisogna avere un minimo di di cognizione come dire della del contesto nel quale certe cose vanno inserite quindi per evitare di saltare rapidamente alle conclusioni cosa che invece noi tendiamo a fare senza fare tutto il percorso bisogna fermarsi un attimo a vedere qual è il percorso che naturalmente poi ci fa aggiungere a determinate conclusioni quindi mi permetto di richiamare alcuni concetti chiave che sono veri sempre quindi questo non c'entra niente il coronavirus guardiamo quello che una economista osserva quali sono gli strumenti concettuali concettuali con i quali un economista osserva la realtà e cerchiamo quindi di comprendere in quale contesto poi certe certe attività certe iniziative di politica economica e monetaria vengono intraprese e quali sono gli obiettivi perché queste non nascono ora sono ovviamente legate a una modello che abbiamo in mente di relazione tra azione di politica economica e monetaria e poi quello che succede a livello macroeconomico ecco una distinzione che credo possa essere utile chiarire è lo sguardo macroeconomico e lo sguardo microeconomico che sono due sguardi completamente diversi il in questo momento il microeconomista sta pensando ad esempio a come possono cambiare le nostre abitudini di consumo a causa di quello che sta avvenendo piuttosto che come possono cambiare i processi produttivi o l'organizzazione i fattori produttivi nei diversi settori questa è una visione di tipo microeconomico che tende cioè a osservare l'equilibrio economico patrimoniale finanziario in caso o comunque l'equilibrio di benessere delle singole dei singoli agenti economici questo è un obiettivo di tipo microeconomico molte delle cose che noi osserviamo sono in realtà problematiche di tipo microeconomico alle quali si cerca di dare una risposta di tipo generale osservando le cose dall'alto cioè in sostanza si dice se io creo nell'ambiente più caldo è possibile che la gente esca in maglietta quindi a livello macroeconomico si cerca di creare un ambiente più caldo a livello macroeconomico perché poi la gente a livello microeconomico decida di uscire in maglietta piuttosto che in cappotto si cerca di creare un contesto nel quale si poi stimolano le reazioni degli individui che comunque rimangono fondamentali perché naturalmente finché l'individuo non reagisce la macroeconomia dall'alto serve a ben poco allora ragioniamo quindi in termini aggregati che è il modo di ragionare tipico dell'economista in termini aggregati noi abbiamo una domanda aggregata e un'offerta aggregata la domanda aggregata che cos'è immaginate tutto quello che avete comprato questa settimana nell'ultima settimana poco tanto che sia abbiamo comprato delle cose e abbiamo fatto quindi la domanda aggregata è chiaro che stiamo sommando carne insalata servizi telefoni eccetera eccetera questa domanda aggregata ha un valore monetario per cui chiamiamola chiamiamo domanda aggregata c'è una certa domanda che si crea attraverso il nostro comportamento individuale la vediamo dall'alto e la domanda aggregata se noi abbiamo trovato delle cose al supermercato piuttosto che su internet eccetera eccetera vuol dire che qualcuno le ha messe lì e quindi c'è un'offerta un'offerta aggregata cioè una serie di quindi vista dall'alto c'è una serie di industrie di lavoratori di attività che fanno in modo che la domanda incontri l'offerta cioè c'è un'offerta e c'è una domanda e questo naturalmente dall'alto si può rappresentare in modo vergognoso dal punto di vista come lo scriverebbe un bambino direbbe scusa ma la domanda aggregata da cosa dipende? La quantità di domanda aggregata dipende essenzialmente dal prezzo di tutte queste cose messe insieme aggregate quindi trascuriamo guardando dall'alto trascuriamo l'effetto sostituzione cosa domando? Ciascuno di noi domanda un po' di roba e domanda una quantità questa quantità ha una relazione con il prezzo più i prezzi sono bassi e più la quantità di domandata sarà alta più i prezzi sono alti e più sarà bassa e meno sarà la quantità domandata a livello aggregato qui per prezzi dobbiamo intendere il livello dei prezzi in generale naturalmente questo poi si deve tradurre in prezzi relativi ma diciamo a questo livello a noi non interessa il prezzo relativo ma il livello dei prezzi di ciò che che compriamo naturalmente non tutte le cose che compriamo hanno la stessa relazione prezzi quantità quindi è una rappresentazione come dire estremamente sintetica però efficace ai nostri fini questa domanda allora da dove arriva la domanda la domanda arriva essenzialmente da alcune voci aggregate che sono i consumi delle famiglie evidentemente tutto questo fa domanda gli investimenti delle imprese la variazione delle scorte perché per per fare scorte fai domanda se hai delle scorte e quindi evidentemente puoi usare le scorte come cuscinetto diciamo quindi che la domanda interna è la somma di consumi investimenti e scorte poi naturalmente c'è una domanda che è una domanda pubblica cioè sono le spese del governo qui rappresentate con l'aeroplano da guerra che al netto delle entrate tributarie danno luogo al bilancio pubblico e alla domanda interna che genera dal settore pubblico perché togliamo le entrate tributarie perché naturalmente togliamo le entrate tributarie perché ciò che ci toglie il governo è sostitutivo della nostra domanda quindi il governo fa domanda ma non è la stessa domanda che faremmo noi se pagassimo meno tasse quindi in qualche modo le entrate tributarie sottraggono capacità di spesa a famiglie e imprese e questa capacità di impresa sostratta diventa spese del governo e quindi domanda interna quindi quella domanda aggregata ha due componenti una discrezionale come dire degli agenti economici liberi e invece un'altra non discrezionale ma decisa attraverso decisioni che sono appunto squisitamente politiche cioè in cosa è opportuno spendere questa è la domanda interna ecco adesso si è fermato lo schermo ecco qua alla domanda interna dobbiamo aggiungere quella che è la domanda esterna cioè la domanda che gli altri fanno dei nostri beni e servizi e la domanda che noi facciamo dei beni e servizi degli altri cioè la bilancia commerciale si aggiunge alla domanda interna ovviamente può aggiungersi in segno algebrico quindi consegno più consegno meno e determina quello che possiamo chiamare il prodotto interno lordo cos'è il prodotto interno lordo alla fine alla fine il prodotto interno lordo è una può essere interpretata come una specie di reddito ecco sostanzialmente prodotto interno lordo è una specie di reddito ed è quindi un concetto di flusso un concetto che riguarda un periodo un arco temporale il prodotto interno lordo dell'anno è un concetto che si avvicina a quello di reddito quindi se il prodotto interno lordo cresce vuol dire che il reddito in generale il reddito tende a essere più alto se il prodotto interno lordo cala evidentemente il contrario quindi il tema è il prodotto interno lordo in qualche modo rappresenta una sorta di reddito dell'intera del paese al quale ci si riferisce naturalmente noi qui possiamo pensare all'italia così come anzi dobbiamo ancora pensare all'italia così come dobbiamo pensare alla germania così come naturalmente possiamo aggregare e pensare all'europa è chiaro diciamo che dal punto di vista contabile ogni paese ha la sua bilancia commerciale ancora tutt'oggi nonostante ci sia l'area di libero scambio concetto questo importante questo del prodotto interno lordo perché perché spesso si parla di rapporto tra debito pil deficit pil questo prodotto interno lordo perché è così importante perché essendo un reddito è la base per il recupero del capitale investito è la base per il recupero ad esempio dei debiti è la base che ci consente di recuperare di pagare interessi e debito per cui è un po' una specie di fatturato margine operativo naturalmente in contabilità nazionale non è una roba del genere però il concetto secondo me è utile mantenerlo come come concetto chiave d'altra parte abbiamo l'offerta l'offerta è immagina immaginate che l'offerta sia un insieme di attività produttive che portano sugli scaffali produttive distributive di commercializzazione di marketing eccetera eccetera che portano sugli scaffali sui nostri scaffali le cose che desideriamo nella forma nel colore così via in questo caso è chiaro che l'impresa a parità di costi più alti sono i prezzi e più è contenta di produrre naturalmente ci sono delle limiti dei colli di bottiglia di capacità produttiva per cui questa curva che voi vedete inclinata così diciamo a 45 gradi casualmente naturalmente non è detto che sia inclinata in questo modo la curva può essere più sdraiata o più più ripida se è più sdraiata abbiamo un contesto di offerta economica molto più flessibile perché perché riesce a fare più quantità senza a fare più fatturato dal lato della della quantità di beni non dal lato del prezzo perché ci sono due modi per un'azienda di far crescere il fatturato aumentare le quantità aumentare i prezzi quindi è chiaro che dal punto di vista macroeconomico la flessibilità di questa curva che vuol dire sostanzialmente l'essere più piatta è una di quelle cose importanti perché consente di essere di avere risposte più flessibili alla situazione della domanda per esempio senza generare prezzi questo è a rialzi dei prezzi la burocrazia le riforme strutturali tutto quello che noi la flessibilità del mercato del lavoro tende a portare questa curva e a sdraiarla un po cioè a renderla meno più capace di essere orientata alla crescita piuttosto che orientata all'inflazione potete immaginare un paese come l'italia si è più orientata all'inflazione alla crescita cioè quando la domanda di pizza cresce il pizzarolo vorrebbe evidentemente mettere su un altro locale a fianco al suo ma questo ha senso farlo in tempi brevi perché se c'è la fila la coda di gente davanti alla pizzeria è chiaro che la cosa migliore è fare un altro locale dove dove a parità di prezzi servire pizze a tutti ma se questo signore per aprire la pizzeria a fianco ha bisogno di chiedere 150 mila autorizzazioni e poi non gliele danno e passa sei mesi eccetera eccetera cosa fa secondo voi prende aumenta il prezzo della pizza è la cosa più ovvia c'è la coda davanti alla pizzeria prendi aumenti il prezzo aumenti il tuo fatturato ma non fai occupazione non genere il nuovo occupazione non chiami camerieri non chiami quello che fa la ditta che ti porta i tavoli eccetera eccetera è un modello che non riesce a crescere viceversa è chiaro che più è dritta più è sdraiata questa curva più siamo orientati alla crescita appena c'è maggior domanda o domanda diversa noi track creiamo subito la domanda la quantità che serve se dovessimo disegnare diciamo il contesto dell'offerta il contesto offerta è molto bello molto interessante da studiare dall'alto perché la prima cosa è la forza lavoro qualità capacità caratteristiche mobilità età sono tutti elementi che determinano la tipologia di forza lavoro di cui un paese ha di cui paese dispone quando noi parliamo di cervelli che vanno che vanno e che tornano stiamo parlando sostanzialmente di una roba che è che è importantissima per l'offerta interna perché la capacità la gente che hai a disposizione determina capacità di fare di produrre se noi non produciamo poi ricordiamoci che andremo a comprare all'estero e quindi il nostro pil che viene sottratto al nostro pil le importazioni naturalmente poi ci vogliono gli investimenti le imprese devono investire devono far lavorare i lavoratori e i lavoratori devono lavorare in aziende fanno investimenti naturalmente forza lavoro investimenti messi insieme determinano la capacità produttiva la capacità produttiva insieme all'energia le materie prime qui ci è messo il petrolio insomma non ci sono solo quelle naturalmente entra in una specie di black box e avviene fuori l'output industriale ora capisco che qui stiamo parlando un po di industria naturalmente c'è anche la parte dei servizi che si deve interpretare in modo leggermente diverso però sostanzialmente diciamo possiamo rappresentarla in questo modo i servizi ovviamente avranno investimenti molto ridotti e l'importanza dello skill la forza lavoro eccetera eccetera chiaramente bisogna aggiustare le cose e dall'output non saranno camion ma saranno cose diverse comunque l'output è output industriale scorte e questo è l'offerta interna e qui entra la prima elemento chiave la disponibilità di capitali cioè sostanzialmente per fare investimenti ci vogliono i capitali e per fare per avere capitali dove li troviamo i capitali per un'impresa è normale cercare capitali in italia avviene così è avvenuto sempre in questo modo l'imprenditore mette un po di soldi suoi e poi chiede i prestiti alle banche cosa abbastanza normale però è un mercato dei capitali che in certi momenti non funziona molto bene negli stati uniti il mercato dei capitali è molto diverso dal nostro è un mercato dei capitali che è orientato verso l'allocazione di capitali verso le imprese attraverso i mercati attraverso il mercato dei capitali delle obbligazioni delle azioni in italia invece è molto meno sviluppato e l'italia è bancocentrica ancora oggi dipende dalle banche per cui per cui le imprese sono attaccate al cordone umbellicale della banca che deve alimentarle dobbiamo tenere ben presente questo per valutare bene quello che stanno facendo gli Stati Uniti e quello che stiamo facendo noi perché siamo diversi diverso il modo di far giungere capitali alle imprese quando ne hanno quando ne hanno bisogno offerta interna allora è chiaro che come per magia rappresentiamo la domanda e l'offerta la domanda e l'offerta si incontrano e si incontrano in un punto scusatemi e si incontrano in un punto di equilibrio che è un un equilibrio di quantità cioè di pil la domanda che ci dobbiamo porre è questo punto di equilibrio perché noi in realtà osserviamo solo il punto di equilibrio non l'intera curva noi non vediamo la curva noi vediamo il punto di equilibrio il punto di equilibrio il pil e il livello dei prezzi il pil e il livello dei prezzi è il frutto del punto di equilibrio fa domanda e offerta perché tra domanda e offerta c'è sempre un punto di equilibrio chiaramente e si determinerà per una quantità la domanda è la quantità che per natura si sviluppa sarà una quantità di piena occupazione se la risposta è no naturalmente abbiamo un problema microeconomico cioè un eccesso un eccesso un tasso di disoccupazione troppo alto oppure evidentemente un livello dei prezzi che può essere giudicato troppo alto o troppo basso quindi immaginate che quello che noi vediamo nei dati che vediamo quando si parla di pil eccetera eccetera noi guardiamo e di inflazione noi guardiamo il punto di equilibrio un punto di equilibrio che la politica monetaria e la politica fiscale cerca di spostare verso destra cioè di generare crescita per fare occupazione quindi politica monetaria e politica fiscale cercano di spostare il punto di equilibrio verso destra ora vi faccio vedere questo è una una mappa presa dal dal sito del fondo monetario internazionale vedete che c'è il link in fondo il fondo monetario internazionale cosa fa fa questa questo questa mappa in cui si vede la crescita del mondo nel 2007 il mondo è cresciuto del 5,6 per cento cosa vuol dire il mondo è cresciuto il prodotto interno lordo del mondo è cresciuto del 5,6 per cento quindi il reddito delle persone nel mondo è cresciuto del 5,6 per cento il colore scuro è quello come dire scusate il colore verde vedete il verde più scuro tra 6 e il 10 per cento poi c'è il verde ancora più scuro che è oltre il 10 per cento lo troviamo per esempio in cina siamo nel 2007 l'italia è come al solito in zona abbastanza abbastanza di bassa crescita ma non solo l'italia vedete anche la francia per esempio la germania è già messa meglio in termini di colorino guardate questo è il 2007 questo poi è il 2009 il 2009 è stato l'ultimo anno di grande difficoltà dell'economia l'economia mondiale è diminuita del meno 0,1 per cento è stato un anno critico una crisi finanziaria grande che ha determinato a livello globale vedete che il colore è cambiato a livello globale ha determinato una diminuzione del reddito del del meno 0,1 per cento quando diminuisce il prodotto interno lordo ci sono più problemi di occupazione naturalmente e quindi in qualche modo in varie aree come vedete in questo problema si è particolarmente sentito ricordiamo di questo numero è meno 0 1 nel 2009 un anno terribile meno 0,1 per cento l'anno dopo più 5 4 perché questo è il ciclo economico il ciclo economico è qualcosa che sappiamo già come va a finire se non si chiamerebbe ciclo è banale si chiamerebbe giù o si chiamerebbe su invece si chiama ciclo perché si chiama ciclo perché oscilla quindi quando c'è un meno 0,9 poi dopo c'è un più 5,4 ci sta 2010 nel 2018 il mondo è cresciuto del 3.6 nel 2019 le previsioni aggiornate attenzione a ottobre del fondo monetario internazionale è più 3 e ora naturalmente il ruolo in utamburi come andrà il 2020 e che cavolo non sappiamo non lo sappiamo naturalmente a ottobre pensate a ottobre del 2019 il fondo monetario diceva che il mondo sarebbe cresciuto nel 2020 del 3,4 stanno per uscire proprio in questi giorni il 14 arriva la previsione del fondo monetario internazionale quindi verranno aggiornate le mappe e scopreremo cosa dice il fondo monetario internazionale della crescita mondiale del 2020 vi ho fatto vi ho citato il numero meno 0,1 per dire o meno 0,1 è un numero in un periodo veramente drammatico ma chissà come verrà fuori il 2020 in queste previsioni attenzione del 2020 e l'intero anno 2020 la previsione l'intero anno 2020 quindi se anche questo trimestre dovesse essere un meno 5 non è detto che l'anno si chiuda meno 5 potrebbe chiudersi peggio non c'è dubbio però potrebbe anche chiudersi meglio quindi attenzione stiamo parlando della crescita dell'anno 2020 e non del singolo trimestre quindi rullino i tamburi vedremo vedremo che cosa succede nel 2021 il fondo monetario internazionale prevedeva un più 3,6 ma adesso vediamo vediamo perché che cosa noi dobbiamo andare a vedere con attenzione dobbiamo andare a vedere che cosa pensa il fondo monetario internazionale del 2021 vi ricordate meno 0,1 più 5,4 nel 2020 sarà meno 3 faccio un numero qualunque non ho la più pari idea meno 4 e nel 2021 è questa la domanda molto più importante il 2020 che il 2020 sia negativo è scontato è il 2021 che è più importante il 2022 che è più importante perché il ciclo economico è un ciclo economico Paul Samuelson che è un premio Nobel definisce il ciclo economico in modo davvero molto simpatico è un'oscillazione del prodotto nazionale del reddito dell'occupazione che di solito dura tra due e dieci anni insomma contrassegnata da una diffusa espansione o contrazione in molti settori del sistema economico questa è la chiave della cosa molti settori del sistema economico fanno recessione quindi tutti insieme devono andare male altrimenti non si genera ovviamente una 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 oscillazione dell'intero prodotto nazionale quindi bisogna vedere bisogna stare attenti prima di fare previsioni perché i settori i settori sono importanti vi faccio vedere questo dato fresco fresco è l'indice sapete in economia il prodotto interno lordo esce con ritardo quindi noi non sappiamo sia il macroeconomista è in questo momento al buio non ha la più palida idea di come sia andato il primo trimestre dell'anno non lo sa semplicemente non lo sa quindi e quando lo saprà e lo saprà tra un po quindi è chiaro che si si naviga al buio allora si cerca di avere degli indicatori anticipatori uno di questi indicatori è un solda un sondaggio che si precipizio nel senso che un valore sopra 50 vuol dire che si sta crescendo e si cresce cioè scusatemi si crescerà un valore sotto 50 vuol dire che si rallenterà quindi noi siamo in questo momento in una situazione un po delicata il composite è un 39.4 in particolare il tracollo avviene nel settore non manifatturiero ora poi vi dirò che cosa vuol dire settore non manifatturiero il manifatturiero tutto sommato come vedete a a livello di marzo naturalmente mantenuto una sua come dire non è non è tracollato però il non manifatturiero si vi faccio vedere rapidamente cosa vuol dire il manifatturiero questa è una cosa che ho scaricato stamattina da questo istituto per il supply management institute che è quello che produce i pmi ufficiali poi ce ne sono ovviamente tanti stimati da società private vedete che c'è una proprio un accenno al tema del coronavirus pandemic shocks in global energy market che ha impattato tutto il settore manifatturiero ci sono state sei big industry che sono rimaste forti in particolare food beverage e tobacco products seguiti da chemical products quindi attenzione i settori sono importanti non tutti andiamo nella stessa direzione pensate che dei 18 settori manufatturieri 10 hanno riportato crescita in marzo ora attenzione che questi sono fonti stati uniti quindi sai stiamo ancora forse in una fase appena iniziale però vedete quali sono i settori manifatturieri di cui stiamo parlando che in qualche modo mantengono a marzo ancora un qualche tenuta danno un'idea della qualche tenuta i non manifatturieri invece sono quelli sono questi elencati qua siamo sempre in marzo quindi attenzione è il dato di fine marzo e quindi health care social assistance real estate rental and leasing public administration utilities finance and insurance and insurance construction companies eccetera eccetera come vedete questi sono arte entertainment transportation e così via scientific and technical services mining quindi il settore non manifatturiero non è l'agenzia di viaggi e basta il settore non manifatturiero è un settore molto rilevante molto importante questo era per interpretare questo dato che naturalmente un dato aggregato poi ci sono le varie industry performance allora arriviamo al dunque se voi prendete un qualunque libro di economia ci dicono che l'economia il ciclo economico esiste ed è un ciclo è un ciclo che ha delle motivazioni profonde che sono connesse all'essere umano sostanzialmente ci sono periodi in cui attenzione questa è una semplificazione didattica domande minore di offerta cosa vuol dire vuol dire che sugli scaffali le imprese hanno messo troppa roba e questa roba tendenzialmente non viene domandata in questo momento chiaramente c'è un rallentamento perché perché se la domanda è meno dell'offerta è chiaro che l'impresa tenderà a ridurre la produzione a non pagare gli straordinari cercherà di adeguarsi alla nuova domanda ma nel fare questo si alimenta un processo di moltiplicate moltiplicatore del reddito perché naturalmente ciascun lavoratore al quale non paghi lo straordinario non andrà in pizzeria e così non compra l'orologio e robe del genere non va in vacanza quindi abbiamo una moltiplicatore qui in questo caso negativa di moltiplicatore del reddito che ci fa arrivare al punto in cui il prodotto interno lordo non cresce più quindi attenzione qui c'è scritto pil percentuale vuol dire variazione sempre variazione quindi qui rallenta la crescita e poi arriva la zona rossa siamo in recessione tecnicamente sono due trimestri consecutivi di segno meno nella crescita quindi due trimestri consecutivi per dire che siamo tecnicamente in una recessione è un discorso convenzionale naturalmente vediamo il momento nel quale arriva un minimo ciclico il fatto è che ci sarà il minimo ciclico questa è la certezza assoluta che noi dobbiamo avere cioè cosa vuol dire il minimo ciclico ci sarà ci sarà un punto nel quale la diminuzione del pil si ferma e comincia ad averci diminuzione sempre inferiore sempre inferiore diminuzione finché non arriveremo a ritornare positivamente c'è un meccanismo economico che si chiama moltiplicatore del reddito che parte dal fatto che le imprese hanno svuotato i magazzini finalmente l'imprenditore vede il magazzino vuoto dice oh finalmente finalmente un corno se c'è il magazzino vuoto non vedi nulla quindi appena spilla il telefono dice ma che ce l'hai dieci computer quello dice no non ce l'ho aspetta che rimenti in produzione il tema naturalmente è quello del minimo ciclico il minimo ciclico è un punto nel quale ci sarà che diciamo che l'economia a quelli che possiamo chiamare e oggi proprio il caso di dirlo gli anticorpi per cui quando esagera c'è una tendenza a ridurre l'importo del magazzino in eccesso cioè arrivare all'eccesso fino ad arrivare ad un eccesso questo eccesso comporta che sarà un eccesso di carenza di capacità produttiva che naturalmente sarà sostituita non appena la domanda è maggiore dell'offerta quindi anche se è poca ma è maggiore dell'offerta innesca quel meccanismo di ricostruzione della crescita economica quindi il ciclo economico si presenta tipicamente così è chiaro che poi se lo guardiamo dal vivo non è proprio così elegante però il tema è questo quindi esiste un massimo ciclico un minimo ciclico un massimo ciclico un minimo ciclico il compito della politica monetaria e della politica fiscale è quella di riuscire a rendere il meno ampio possibile questa oscillazione perché meno ampia possibile perché in questo modo c'è più certezza la certezza aiuta la crescita la disoccupazione quando c'è non è devastante non si arriva al meno 25 ma si cerca di stabilizzare il ciclo non è possibile evitarlo nelle economie pianificate si provava proprio ad evitare il ciclo economico cioè la pianificazione aveva come obiettivo quello di determinare una crescita sostenibile nel tempo ma si è visto che questa cosa dava degli effetti collaterali che erano naturalmente legati alla capacità poi di competere la forza dell'innovazione la forza della competitività insomma è chiaramente il tema quindi più siamo diciamo se volete liberisti dal punto di vista economico più abbiamo cicli economici ampi è inevitabile questo è assolutamente inevitabile infatti il ciclo economico americano è molto più ampio quindi abbiamo questo alternarsi di ciclo di ciclo economico gli acquisti dei consumatori diminuiscono bruscamente ecco attenzione a questa frase gli acquisti dei consumatori diminuiscono bruscamente le scorte di automobili e altri beni durebili aumentano imprevedibilmente la imprevedibilità importante non c'è recessione economica prevedibile perché se fosse prevista naturalmente non ci sarebbe quindi è sempre imprevista la recessione sempre perché se fosse prevista non ci sarebbe ma man mano che le imprese reagiscono riducono la produzione il pir reale diminuisce reale vuol dire al netto dell'inflazione diminuiscono anche gli investimenti delle imprese la domanda di lavoro diminuisce prima si riducono gli orari poi si seguono i licenziamenti aumenta l'esoccupazione a ridursi della produzione calano la domanda di offerta di materie prime i prezzi di esse crollano i profitti delle imprese diminuiscono bruscamente questo è quello che si avvita diciamo così nel periodo che ci porta verso la recessione vi faccio vedere una grafico vero questo è l'andamento della crescita del prodotto interno lordo americano vedete ho scritto nel grafico a sinistra le recessioni durano poco ma sì perché vedete minimo ciclico e si ritorna su minimo ciclico e si ritorna su minimo ciclicone qui siamo nel 2009 guardate che l'america ha fatto meno tre e mezzo nel 2009 un numero pessimo pessimo chissà cosa ci riserva quale sorpresa ci riserva il pil americano dell'anno 2020 attenzione no questo è anno su anno quindi è molto smussato questo sennò sarebbe molto più volatile vedete che dopo il 2009 track siamo tornati qua ed ora eravamo in una situazione di crescita tra l'uno e il tre con delle oscillazioni molto modeste se però noi guardiamo il prodotto interno lordo come valore cioè come come quanto prodotto interno lordo c'è ogni anno in termini di dollari diciamo vedete che il prodotto interno lordo tende a crescere praticamente sempre salvo nel 2009 dove si nota un pezzettino piccola riduzione che poi è stato rapidamente recuperato vedete questo è il pil reale in termini senza inflazione questo è quello con inflazione quindi il ciclo economico si misura con le variazioni se noi guardiamo questo lo vediamo crescere sempre salvo qualche momento in cui si nota quel meno 3 eccolo qua no ok quindi noi sappiamo cosa succede dopo quindi tutti gli economisti sanno che c'è un minimo ciclico e che dopo ci sarà una ripresa tutto ci sarà un po'ernico